hallo buonasera eccoci qua con questo consueto appuntamento spesso nel weekend spesso non uno solo quindi vi anticipo già di stare attenti domani perché ci potrà essere una nuova edizione allora sono quiz sono quiz commentati come al solito questa volta un livello medio difficile e non dico monotematici ma quasi lo annuncio così poi chi vuole se ne va via prevalentemente di tributario un po per coloro che si stanno preparando per il concorso in agenzia delle entrate a brevissimo e perché comunque è una materia che spesso fa la differenza allora vediamo vediamo un po intanto giuseppe suggerisce qualche volta dobbiamo fare un po di quiz di logica conale certamente lo catturo e rifaremo qualche diretta magari con solo quiz psicoattitudinali e logica matematica grazie per i complimenti alla camicia un po particolare vediamo vediamo chi si sta collegando intanto numerosi invito like condividete iscrivetevi intanto ringrazio i numerosi che si sono abbonati durante questa diretta carmela è la prima volta che partecipo benissimo benissimo nessun problema ci sarà una stringa blu del sondaggio cliccherete lì la risposta giusta fra le varie opzioni questa volta saranno tre opzioni quindi non abcd ma tre opzioni ma ma monotematici intanto valerio dice grazie per la diretta di stamattina stamattina ho fatto un paio di dirette quante di extra tributario non iniziate a far domande dettagliate chi vuole rimanere rimane chi non vuole rimanere se ne va via mariada dice prevedo un bagno di sangue paola la prima volta anche per lei bene 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 vale vale dice meglio scappare non ci credo non ci credo rimarrete e farete quiz intanto prendo qualche secondo per consentire a tutti di partecipare di mettere like di condividere di organizzarsi quante stasera vediamo vediamo la velocità a cui vado io spero di farne una trentina circa quiz in quali materie tributario prevalentemente tributario poi qualcosa di amministrativo generale ok allora lunedì ho due prese elettive ora di mattino di pomeriggio bene bene tenersi aggiornato tributario non è la priorità ma male non fa assolutamente è una priorità ve la assicuro tutte le materie sono prioritarie quando si imparano i quiz anche su materie diverse si imparano poi a fare sulle nostre johnny era qui ma se ne è andato via offeso perché non ama diritto tributario lui è più per l'amministrativo pure per la 241 un gatto amministrativo ha assegnato all'ispettorato del lavoro ottimissimo ottimissimo silvia intanto tutti gli altri tremate quando sarete dipendenti pubblici per i controlli che vi farà bene allora stiamo stiamo andando verso i 200 partecipanti che è un buon buon ritmo allora avanti tutta forma pia avanti tutta il mio motto sempre positivi sempre con l'occhio puntato al risultato intanto adesso mi ingrandisco perché poi vedrete in modo tale che possiate vedere soltanto la domanda principale vi do le tre opzioni a b c della prima domanda intanto tributario amministrativo lunedì lunedì inaugurano la prova ade grandissimo grandissimo infatti abbiamo ormai mancano poche ore johnny non ama gli appalti neanche gli appalti non agli appalti proprio di di snobba lui è fatto così è fatto così allora bene grazie anche i complimenti per la camicia un po diversa dal solito anche per me primo concorso di amministrativo contabile benissimo benissimo guardo un altro po di vostri commenti e poi partiamo e ci siamo dati cinque minuti di per consentire a tutti di prendere dimestichezza di presentarvi di conoscere di conoscervi anche chat molti diciamo poi dopo si frequentano anche extra chat e grazie ai suoi insegnamenti sono vincitore di un concorso e non ci si ferma qui avanti giovanni avanti tutta avanti tutta assolutamente allora pink style yes of course 30 su 400 a cervia grande esperienza 30 su 400 primo concorso e grandissimo grandissimo la camicia da spettacolo troppo bella la metterò all'asta diciamo allora se se mi fate troppi complimenti allora dai iniziamo pronti attenti via allora mi sono ingrandito troppo eccolo qua questa è la giusta dimensione vado a leggervi il sondaggio domanda numero uno ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 bis dello statuto dei diritti del contribuente per configurarsi la condotta abusiva si devono considerare vantaggi fiscali in debiti vantaggi fiscali in debiti i benefici a anche non immediati realizzati in contrasto con le norme fiscali con i principi dell'ordinamento b anche non immediati realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali con i principi dell'ordinamento tributario c immediati realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario domanda apparentemente difficile ma prof qualche dritta per un concorso di un'agenzia ce l'ho, studiare bene tutto questa è la dritta fondamentale se si studia bene tutto si va e si fa del nostro meglio e poi i risultati vedranno questa è la dritta per tutto non esistono scorciatoie, non esistono dritte non esistono suggerimenti studiare bene tutto bravissima Alice vedo che è la prima volta che partecipa in diretta ma conosci il tecnicale qui tecnicale a palla poi troverete nella domanda un riferimento che può aiutarvi che può aiutarvi domanda non difficilissima Francesco dice oggi provo quasi tutto di tecnicale vai vai così vediamo statisticamente come va intanto siamo quasi a 100 votanti a questo sondaggio il che ci rende statisticamente interessante la prova quindi non soltanto diciamo siete tutti comunque studenti che si stanno preparando ai concorsi e quindi è come se foste ad un concorso vedendo come vi state classificando segnatevi poi il numero di domande esatte che vedremo allora bene 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 non rispondete nella chat ma nel sondaggio striscia blu allora abbiamo abbiamo il 69% che ha detto B ed è la risposta esatta tecnicale o è la A e la B ma condotta abusiva abusiva significa non sto violando direttamente una norma fiscale è in contrasto con le norme fiscali o i principi dell'ordinamento per ottenere un vantaggio anche che non è immediato cioè non ho messo l'ISEE sbagliata ma ho fatto in modo di arrivare al risultato anche indirettamente questa ci si poteva arrivare con un po' di buon senso andiamo alla 2 andrò un pochino più veloce del normale diciamo per farne un pochino di più arrivare magari a farne 30 allora la 2 mi dice nell'ambito della procedura di accertamento dell'abuso di diritto di quell'articolo 10 bis dello statuto dei diritti dei contribuenti relativamente all'onere proprietario è corretto affermare che l'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva non rilevabile d'ufficio l'amministrazione finanziaria rileva d'ufficio la condotta abusiva o la condotta abusiva viene presunta fino a prova contraria da parte del contribuente vale vale non vedo la barra per votare uscire dalla chat e rientrare questo mi dicono che è la situazione intanto Vittorio dice i corsi omnia vi spane quotidiano anche quando lavoro alla grande alla grande i corsi fanno la differenza che siano quelli che fatti da me o altri non importa ma il corso rispetto al libro fa la differenza quindi allora vedo che questa è un pochino più non dico difficile ma sempre tecnicale mi raccomando sempre tecnicale vedo che molti di voi lo usano e molti di voi usano il pollice in alto siamo quasi al 100 mi piace mi piace questa cosa allora bene a 100 voti io termino il sondaggio e si va avanti quindi fate veloce non prendete troppo tempo perché non lo avrete al concorso troppo tempo quindi cercate di rispondere più velocemente possibile eccolo qua allora anche in questo caso un 70% ha risposto bene che la l'amministrazione ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva non rilevabile d'ufficio ovviamente poi l'interessato il contribuente potrà difendersi contro questo onere della prova A B C per la domanda numero 3 le operazioni abusive di cui all'articolo 10 bis dello statuto del contribuente stiamo facendo tutto il 10 bis non danno mai luogo all'applicazione di sanzioni amministrative tributarie non danno luogo a fatti impunibili ai sensi delle leggi penali tributarie o sono punibili ai sensi delle leggi penali tributarie anche qui tecnicale mi raccomando anche qui tecnicale giustamente Maria Ada qui bisogna sapere anche il contesto dello statuto del contribuente che vi andrete a leggere dopo di ora faremo tre domande di tributario e tre domande di amministrativo e quindi preparatevi che poi passiamo alle domande di amministrativo allora stiamo andando verso 30 voti bene 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 anche qui avremo su per giù le stesse percentuali ve l'ho detto a un livello medio difficile medio difficile significa indovina dal 60 al 70% di voi qualcosa in più qualcosa in meno intanto Walter ci saluta Walter che ho visto stava dicendo è di Sorrento Walter sarò a Sorrento a metà dicembre ora lo annuncerò nel Chiarelli Tour ma sarò da quelle parti in Campania non per un convegno non per un seminario al pubblico sarò per per vari motivi ma chi è in zona magari se ci vediamo per una tazzurie alle caffè ci sono allora terminiamo anche qui la risposta giusta era la B non danno luogo a sanzione penale perché sono operazioni abusive ok non è evasione fiscale quindi tra l'altro in materia penale le sanzioni penali sono veramente rare ma le operazioni abusive danno luogo ad applicazioni di sanzioni amministrative benissimo adesso facciamo la domanda numero 4 che voi magari vedrete come domanda 1 perché ora cambio quiz e è questa è dichiarato irricevibile il ricorso amministrativo a che manchi di qualcuno degli elementi essenziali b presentato fuori termine c ritenuto infondato eh lo so Vittorio lo sto attendendo ancora in Sicilia ma avete messo la Sicilia laggiù in fondo non è che è dietro Arezzo la Sicilia è laggiù quest'anno sono venuto in Calabria ma poi ce ne andrei ancora per arrivare in Sicilia verrò verrò mi devo organizzare con un bel volo e poi con una serie di tappe di bed and breakfast o bed and teach come ho detto l'altra diretta fra l'altro ringrazio perché dopo il mio annuncio del bed and teach cioè il farmi ospitare a casa e in cambio di lezione individuale ho ricevuto diverse email di disponibilità e ringrazio tantissimo tantissimo per la fiducia prof non si legge no si dovrebbe leggere io diciamo leggo abbastanza bene vediamo un po' provo ad allargare e a ridimensionarmi un pochino io ma si dovrebbe leggere è dichiarato irricevibile ricorso amministrativo a che manchi di qualcuno avviamenti essenziali b presentato fuori termine c ritenuto infondato sto notando che le percentuali di risposta esatta sono identiche ok quindi è proprio il livello adatto quello che ho scelto di questi quiz faremo anche domani una sessione di quiz quindi rimanete sintonizzati cliccate sulla campanella delle notifiche perché non ha adesso non so se ci si riferisce a questa domanda ma adesso vediamo la risposta esatta terminiamo il sondaggio prof a Natale sono ad Arezzo dai miei parenti Arezzo Firenze c'è sempre un'oretta e qualcosa un'oretta e mezzo di viaggio quindi vieni te a Firenze non io ad Arezzo se passi da Firenze come domani fra l'altro domani due studenti passano a trovarmi sarò in centro verso le 10 per chi fosse in zona se ritorno ritorno in Calabria ritorno in Calabria sono innamorato della Calabria allora bene la risposta esatta è vediamo un po' qui adesso la scopro sì la risposta esatta è la B presentato fuori termine irriscevibilità è un vizio procedurale quindi un vizio procedurale che determina che si determina non in relazione a profili di merito in fondatezza né ovviamente alla mancanza di un elemento essenziale ma ha un vizio appunto di trasmissione fuori del termine assegnato domanda numero 5 che a voi appare come la domanda numero 2 adesso ve la leggo che è questa che cosa si intende scusate mi ridimensiono un attimo nuovamente che cosa si intende per esecutorietà del provvedimento del provvedimento amministrativo a l'idoneità del provvedimento a essere eseguito anche contro la volontà del destinatario e senza previa pronuncia giurisdizionale b l'idoneità del provvedimento a essere eseguito anche contro la volontà del destinatario e previa pronuncia giurisdizionale c il potere di produrre unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica del destinatario Irene Crotone sapete sono già stato a Crotone ho fatto Catanzaro Crotone quando torno farò probabilmente anche Reggio Calabria però insomma ora non parliamo del tour perché ora fino a Natale niente intanto Irene dice prof se torno in Calabria all'ospedale Irene mandami un'email così io me le salvo almeno mi salvo tutte le manifestazioni di ospitalità che accetto volentieri e poi quando mi organizzo ripesco le email che mi sono arrivate con i contatti quindi se mi metti telefono luogo eccetera io poi se possibile ovviamente vi contatto allora siamo arrivati oltre le 100 allora vediamo un po' anche qui tecnicale cioè la risposta esatta è la A o la B che si differenziano soltanto perché nella A è senza previa pronuncia giurisdizionale nella B è previa pronuncia la risposta esatta rullo di tamburi rullo di tamburi rullo di tamburi è la A per forza perché perché il provvedimento amministrativo ha questa caratteristica a differenza dei rapporti civilistici dove se tu mi devi dei soldi e non mi paghi io per poterteli prendere con la forza devo avere una pronuncia del giudice la pubblica amministrazione non ha bisogno di questa attenzione non sempre nei casi previsti dalla legge anzi nei casi e nei modi previsti dalla legge l'esecutorietà è una caratteristica di alcuni provvedimenti amministrativi che consentono alla PA di venire e se hai realizzato un immobile abusivo io piglio e te lo spiano con le ruspe ok non ho bisogno che il giudice mi autorizzi a spianartelo con le ruspe andiamo alla numero 6 e poi ritorniamo al tributario pronti con la numero 6 che dice come si articola la fase preparatoria del procedimento amministrativo si articola con la pubblicazione con l'iniziativa e l'istruttoria o con il controllo di legittimità questa è la più semplice forte Alice dice accivicchia caduta su questa era andata bene fino ad ora eh succede 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 grande Valeria che mi ospita email simone ve la scrivo simone.chiarelli chiocciola gmail.com mi scrivete la ospito volentieri ho la casa a sono di eccetera il mio cellulare è questo io me lo segno e poi quando è il momento vi chiamo e poi potreste anche dirmi no cavolo mi hai fatto perdere un concorso col cavolo che ti ospito verificherò che abbiate superato il concorso perché non vorrei essere ospitato da qualcuno che è andato male al concorso e mi ospite e magari mi offre la colazione vabbè lasciamo stare non pensiamo negativi post scrittum era una battuta eh lo dico per quelli che non capiscono le battute bene grazie mille intanto sia quelli che in diretta e quelle vi dicevo moltissimi che mi mandano le loro email con le manifestazioni di stima allora mi sono distratto un attimo questa è proprio semplice perché anche se sapete che la dottrina è divisa qualcuno chiama fase dell'iniziativa istruttore decisore integrativa dell'efficacia qualcuno accorpa le due fasi iniziali iniziative ed istruttore la risposta giusta era la B nella fase preparatoria ok diciamo io preferisco la quadripartizione prof ospito anche Johnny super volentieri non penso che farà viaggi molto lunghi poi abbiamo anche la Lola se no io ho un cane e due gatti quindi la Lola il cane e Johnny e Timmy due gatti non è che li posso separare quando vengono al nord verrò al nord una delle prime tappe da quando riprenderò sarà al nord che ho trascurato che ho trascurato lo confesso sono un po' sudista l'ho trascurato allora torniamo a tributario eravamo rimasti alla tre di questa che per noi è diventata la numero sette tre domande di tributario preparatevi vediamo se sono difficili come quelle altre l'articolo 11 dello statuto dei diritti del contribuente come riformulato nel 2015 oltre a riconoscere garanzie comuni per tutti i tipi di stanza razionalizza le tipologie di interpello sistematizzandole e raggruppandole in quattro categorie costituisce l'unica forma prevista di interpello obbligatorio attenzione a l'interpello probatorio b l'interpello anti abusivo c l'interpello disapplicativo porca milano le grande le gran milan mi non so quando verrò a milano queste veneziane il centri città non mi piacciono molto e quindi è più probabile che venga in periferia di milano facilmente raggiungibile anche da milano ma ve lo annuncio tanto io ho un gruppo telegram anzi colgo l'occasione per inserirvelo gruppo telegram che si chiama Chiarelli in tour dove aggiorno su tutte le iniziative che faccio negli spostamenti appunto eccolo qua vi metto il link per chi vuole seguire Chiarelli in tour allora questa è la prima diciamo che inizia a falcidiare un po' i partecipanti siamo alla numero 7 corrispondente alla 4 è l'interpello probatorio anti abusivo o disapplicativo quello obbligatorio intanto Casan ci dice un disastro può essere dovete abituarvi però anche a questo a sapere affrontare i quiz che non avete mai fatto perché per vedere se siete capaci di intuizione e soprattutto se non cadete sugli specchietti per le allodole la era uno specchietto per le allodole interpello probatorio obbligatorio probatorio che prova anti abusivo l'avete scartata in molti e invece la risposta giusta era l'interpello disapplicativo occasione per ripassare l'articolo 11 dello statuto dei contribuenti andiamo alla numero 8 pronti attenti via numero 8 che qui vi corrisponde alla numero 5 trattando della fattispecie del responsabile d'imposta articolo 64 di PR 600 è corretto affermare che a non ha diritto di rivalza b questa fattispecie è un caso di coobbligazione solidale ex legge c è definita la legge come colui il quale in forza di disposizione di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri per fatti e situazione a questi riferibili ed anche a titolo di acconto chi è il responsabile d'imposta responsabile intanto siamo arrivati a 200 partecipanti in diretta 113 like grazie mille prof che livello sono queste domande livello medio difficile ok alcune difficili altre medie infatti diciamo il livello il margine di errore varia con alcune che fanno la differenza concorso ADE rispondiamo a tutte le domande quelle che non sappiamo andiamo per intuito oppure è meglio tralasciare quelle che non si sanno per recuperare punti consiglio consiglio mio se volete andare tanto per partecipare classificarvi 800 millesimi saltate quelle che su cui avete dubbi non si vince non si vince si va per vincere e ci si gioca tutto non rispondere diciamo io lo trovo sempre sbagliato metodologicamente logicamente sarà che ho fatto tanto sport e mi piace la logica sportiva si va io lo provo il punto poi non mi entra amen ma l'ho provato a quella volei ho provato quel servizio ho provato a vincere non è che mi accontento di sperando che gli altri sbaglino più di me anche perché statisticamente si perdono più punti statisticamente si perdono più punti benissimo allora vedo che in tantissimi state rispondendo e con molto piacere perché sapete chi fa i quiz ha molto piacere una fraccata ha sbagliato perché perché la C enorme specchietto per la enorme specchietto per la Lodale colui che è obbligato al pagamento di imposti in luogo di altri per fatto situazione a questi riferibili molti di voi hanno risposto pensando di aver letto nella domanda il sostituto d'imposta ok sono convinto che adesso direte a cavolo avevo letto il sostituto d'imposta che è la definizione C ma se io tolgo la C perché è il sostituto d'imposta e tolgo la A perché il diritto di rivalza comunque non è un fatto a me a me imputabile beh rimaneva come è quella corretta la B è un caso di co-obbligazione solidale cioè tutti e due rispondono per l'intero ex legge cioè determinata dalla legge Alice dice mi ero affidata alla C che era più lunga va benissimo ma la teoria per cui si adotta la più lunga è dopo aver scartato il ragionamento quindi prima la leggo leggo bene leggo la domanda vedo se c'è un trabocchetto certo nel dubbio poi mi butto e una delle ultime opzioni del tecnicale è proprio quella del adotto la più lunga siamo arrivati alla numero 9 e poi passiamo al diritto amministrativo vedo che siete molto contenti di essere falcidiati sul tributario allora l'amministrazione finanziaria è obbligata a comunicare l'esito del controllo automatico se la dichiarazione risulta regolare a sì lo dispone il 36 bis del DPR 600 b sì dispone lo statuto dei diritti del contribuente che l'amministrazione deve comunicare al contribuente al sostituto d'imposta l'esito di ogni attività di controllo entro 15 giorni no non c'è una norma che impone al fisco la comunicazione di regolarità della dichiarazione secondo la cassazione civile vediamo le vostre risposte Giuseppe dice caduto nel burrone eh sì caduto anch'io sebbene abbia appena letta abbia pensato al notaio sì al notaio certo come sostituto d'imposta il notaio può essere sia sostituto d'imposta che coobbligato solidale ecco obbligato solidale per i debiti tributari sostituto d'imposta per i propri dipendenti spariranno non esce il video spariranno non esce il video non capisco la frase io avrò la prova da remoto ma nella mia zona ultimamente salta spesso la corrente e il segnale ovviamente se sono fatti certificabili è possibile essere riammessi a una successiva prova quindi l'importante è se accade farsi rilasciare dichiarazione dal fornitore di energia che accade per notaio responsabile d'imposta cioè notaio responsabile e generalmente anche sostituto d'imposta allora la 6 la 6 la 6 vediamo come è andato il sondaggio questa volta un po' meglio un 60% circa di voi ha risposto correttamente C che è no non c'è una norma ovviamente il trucchetto era l'esito del controllo automatico voi pensate che il fisco fa miliardi di controlli alla settimana ok decine di miliardi non milioni miliardi di controlli all'anno automatici ok con sistema automatico dovesse comunicare via raccomandata con lettera ordinario o altro strumento noi pagheremo 10 volte le tasse attuali quindi assolutamente no non c'è una norma che impone al fisco la comunicazione di regolarità della dichiarazione ma solo di irregolarità bene torniamo al nostro diritto amministrativo con la numero 10 intanto ringrazio veramente tutti quelli che sabato domenica infrasettimana a qualunque ora anche quelli che la mattina alle 4 quando spesso registro delle dirette sono presenti prof mio merito ci tiene a ringraziarla in diretta grazie a lei ho passato l'esame orale di polizia locale grazie a lei ha passato grandissima Emanuela allora abbiamo in famiglia il primo posto fisso in polizia di Roma capitale Emanuela immagino è qui per il secondo posto fisso ormai tira questa cosa sono contento di aver contribuito non lo sapevo ho pensato subito che non manda milioni di raccomandate certamente allora pronti attenti via con il quiz di amministrativo il quale dice ai sensi della 24290 la motivazione del provvedimento consiste a nell'indicazione dei presupposti di fatto e ragioni giuridiche che hanno determinato l'amministrazione alla decisione b solo nell'indicazione delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'amministrazione alla decisione c nell'indicazione degli atti presupposti intanto Giuseppe grazie purtroppo Carla ora spiego un aspetto tecnico io metto la barra per votare il quiz nel momento in cui vi mostro il quiz purtroppo cosa succede YouTube è in streaming cioè io in questo momento sto parlando voi ricevete il segnale 20 secondi dopo se avete una connessione lenta lo potreste ricevere anche 30-40 secondi dopo allora quando io tolgo la barra che è istantanea voi la trovate tolta quasi subito purtroppo non posso controllarlo perché dipende dalla vostra connessione in gran parte io calcolo circa un 20 secondi di streaming allora cosa posso dire se mi chiedono l'autocertificazione l'atto notorio parlare degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 2000 del controllo a tappeto del controllo a campione e di tutto il tema della semplificazione documentale fra l'altro ho lanciato qualche giorno fa due o tre giorni fa un'intera lezione di tre ore sulle semplificazioni normativa amministrativa documentale del linguaggio amministrativo organizzativa riassumendo come posso iniziare no non si può fare qui in una diretta come posso iniziare l'orale si studia e poi se uno vuole ci sono le lezioni individuali per imparare anche a esporre all'orale ok vediamo un po' come va questa era proprio banale ora non vi montate la testa perché questo 96% ha risposto esattamente infatti è la risposta giusta è la A però serve perché adesso venite da una risposta facile e poi magari arriva quella un pochino più difficile allora domanda numero 11 che dice ai sensi della 241 del 90 nella comunicazione di avvio del procedimento è necessario indicare oltre all'amministrazione competente l'ufficio la persona responsabile anche a esclusivamente l'oggetto del procedimento promosso b anche il termine entro cui il procedimento sarà concluso c sia l'oggetto del procedimento promosso che l'ufficio di cui si può prendere visione degli atti quid est in un quiz la dava esatta come preambolo forse ci si riferisce alla domanda precedente non ho capito la A non è il preambolo no no l'indicazione dei presupposti di sfatti regioni giuridiche è la motivazione non c'è dubbio il preambolo sono i presupposti normativi di legittimazione all'adozione dell'atto questa è la definizione ci sono varie definizioni di preambolo ma è questa la definizione la definizione invece di motivazione è nella 249 ed è quella bene 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 intanto ricordo per dovere diciamo anche verso il tubo che chi vuole e ne ho visti 5 o 6 durante questa diretta si sono abbonati al canale che dà l'accesso a numerose sia dirette che poi videoregistrazioni di approfondimento base intermedio professionale consiglio il professionale che dà tutto quanto centinaia e centinaia di video per l'orale mi sta aiutando il full 136 il full 136 è fantastico sono risposte all'orale di studentesse bravissime e altro materiale che serve specifico per l'orale serve una piccola preparazione specifica la motivazione è parte finale dell'atto no non è parte finale dell'atto diciamo è parte intermedia il dispositivo è la parte finale dell'atto se vogliamo dal punto di vista fisico il sindaco che funzioni ha verso le... no fa bella non mi puoi fare siamo fuori tema ok hai sbagliato diretta hai sbagliato diretta allora terminiamo il sondaggio vediamo allora qual è la risposta anche qui abbastanza scontata sia l'oggetto del procedimento promosso che l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti e poi ci sono tante altre cose andiamo alla domanda numero 12 qui non la so nemmeno spiegare ovviamente perché è abbastanza semplice queste di amministrativo sono un livello molto molto più semplice in un concorso chiede nozioni di ragioneria su che regolamentazione devo orientarmi COD 072 è il corso di ragioneria o di contabilità economico patrimoniale che spiega la partita doppia e tutto il sistema della contabilità economico patrimoniale ve lo consiglio caldissimamente secondo quanto indicato nel Tuel a chi deve indirizzare le proprie dimissioni un consigliere comunale a al prefetto b al sindaco C al consiglio comunale questa forse è un pochino più difficile pochino pochino ma un pochino più difficile e poi ritorniamo al tributario così che queste sul diritto amministrativo avete fatto avete rispirato un po' intanto Fovella ride grande intanto faccio qualche battuta non ve la abbiate a male ecco qua che stanno arrivando le risposte qui c'è un piccolo tranello un piccolo trabocchetto vediamo chi di voi ci casca dai siamo abbastanza in linea adesso velocizzo un pochino le domande in modo tale da arrivare a farne 30 oggi e 30 domani ecco qua allora la risposta esatta è il consiglio comunale il consigliere al consiglio il trabocchetto era il sindaco ok non c'entra niente il sindaco il consiglio è organo rappresentativo ah mio marito mi ha fatto sbagliare questa domanda sulle dimissioni allego email per procedura di separazione giudiziale allora andiamo a tributario con la domanda numero 13 scherzo eh perché fra l'altro ricordo sempre che sono il più odiato dei compagni compagne e dei figli minori perché molti dicono ancora chiarelli e sei sempre lì con chiarelli sempre a sentire chiarelli non andiamo fuori eccetera eccetera ecco quindi lo so e non vorrei farmi odiare di più allora andiamo alla prossima domanda che è un pochino articolata e la leggiamo i commi 130 e 131 della legge 208 in vigore del 1 gennaio 2016 riscrivendo l'articolo 57 del dpr 633 e l'articolo 43 del dpr 600 hanno dettato nuovi termini per l'accertamento in materia di IVA in poste dirette in caso di mancata presentazione della dichiarazione la notifica degli avvisi di rettifiche di accertamento dovrà avvenire appena di decadenza maremma questa domanda a entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata b entro il 31 dicembre del settimo anno c entro il 31 dicembre del quinto anno successivo vediamo le vostre risposte pensateci bene occhio ai trucchetti allora vediamo vediamo non rispondete Carlo non rispondere nella chat ora inizio a mettere le note si risponde sul rigo blu e se non volete rispondere non scrivete in chat Favella dice sparata qui bisogna conoscere la prescrizione o forse o forse rileggere bene la domanda rileggere bene la domanda ormai vota assentimento dice vale vale ma aiuta guardate anche se non è la vostra materia forse ritenete che tributario tanto non lo avrete nei vostri concorsi però trovarsi di fronte a un quiz dove ho il panico tentate intanto di toglierne una vi do un indizio sesto anno sapete che i termini generalmente sono dispari per tradizione perché noi abbiamo i sette nani abbiamo i sette vizi capitali abbiamo la trilogia di qualunque cosa quindi tre cinque sette normalmente sono dispari quindi la tolgo intanto mi butto sul 50% ok vediamo un po' quiz per le regioni farò diciamo e comunque sono anche per le regioni e questo è tributario vale anche per le regioni quindi non sottovalutate perché c'è una tendenza degli studenti a voler fare i quiz sulle cose che conoscono ma che vi serve voi vi serve fare i quiz sulle cose che non conoscete la maggior parte boccia per questo perché continua a fare i quiz sulle cose che sa e si galvanizza oh 28 su 30 grazie e poi non passo per quegli altri ok bene allora signori io non so come dirvelo non so come annunciarvelo però ve lo devo dire in faccia grande Alessandro allora la il trucchetto era nella mancata presentazione della dichiarazione non l'avviso di accertamento relativo a una dichiarazione presentata per cui ci sono cinque anni che è il termine classico qui è il settimo anno mancata presentazione ok quindi nel caso di presentazione cinque anni nel caso di mancata presentazione sette anni 26% di voi ha risposto esattamente vedete ne basta una per vincere o non vincere quindi e questo shock sicuramente vi servirà per prepararvi e ricordarvi di stare molto attenti alle domande molto attenti alle domande domanda numero 14 l'accertamento induttivo qualora disposto nei confronti dei possessori di redditi di impresa o di lavoro autonomo è la forma di accertamento generale a cui si ricorre di norma B si sostanzia nel controllo delle scritture contabili e delle risultanze di bilancio o C è un accertamento in cui eccezionalmente l'ufficio procede prescindendo dalle scritture e dalle risultanze del bilancio e avvalendosi di notizie comunque in suo possesso molto interessante intanto tutti beccato lo specchietto siamo caduti come bischeri dice Giuseppe che non mi sembra toscano quindi diciamo è una citazione mio onore in toscano direbbe ci siamo cascati come bischeri caduti non si usa non si vede la domanda no a me risulta ben visibile la domanda intanto Alessandro mi diceva è il condottiero dei nostri cuori esagerato esagerato poi mi punto la testa Francesca dice io sono autolesionista non so se riferimento alla risposta che ha dato allora siamo arrivati quasi a 100 risposte siamo alla numero 14 che è la 8 che visualizzate allora proviamo a vedere devo dire sono contento perché comunque penso abbiate ragionato si sostanzia nel controllo delle scritture contabili induttivo vuol dire indurre diciamo dedurre qualcosa da un qualcosa che non si ha a disposizione quindi se ho le scritture contabili non posso fare un accertamento induttivo la risposta esatta è la C è un accertamento in cui eccezionalmente normalmente non dovrebbe avvenire l'ufficio prescindendo dalle scritture e dai risultati di bilancio che dicono una cosa ha notizie che sia successa un'altra cosa allora ne deduce che questo è il riferimento pubblico posto fisso PPF come passare la prova per ad eppur non avendo studiato nulla corruzione amici al ministero 3 mettersi sotto a studiare tutto il weekend ok andate per la 3 qual è la domanda alla risposta 13 la domanda alla risposta 13 ora non mi ricordo qual è la risposta alla domanda 13 se è quella immediatamente precedente che è questa era la B il settimo anno mentre questa è la C di Como siamo alla domanda numero 15 e poi passiamo ad amministrativo e ne facciamo 5 di amministrativo e poi 5 di tributario pronti attenti via l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente come disciplinato dalla normativa del 97 comporta in ogni caso la riduzione delle sanzioni ad un terzo del minimo a comporta la riduzione delle sanzioni ad un terzo del minimo fatta eccezione di quella applicata in sede di liquidazione delle dichiarazioni b comporta sempre la riduzione della sanzione ad un terzo del minimo con l'unica eccezione di quella relativa alla mancata completa o non veritiare risposta a questioner di uffici finanziari o si comporta sempre la riduzione della sanzione ad un terzo del minimo le norme non prevedono eccezioni wrong guitarist chiede civile procedura civile non c'è oggi no domani vediamo se diciamo vi metto anche qualche quiz di civile procedura civile soprattutto civile oggi facciamo tributario e amministrativo e vedo però che non vi state facendo trarre in inganno intanto tecnicale o la a o la b scarto la c mi concentro sulle parole ok se usate il tecnicale puro sapete qual è la risposta giusta e penso che molti di voi la stanno usando intanto dopo questa caporetto me la mangio la pizza si doppia tecnicalissimo questo è tecnicalissimo tecnicalissimo ce n'è una che va scartata per doppia ragione per doppia ragione spiego la b va scartata perché c'è sempre e unica gli estremi quindi la risposta giusta è la allora andiamo a nostro amministrativo domanda numero 16 la domanda numero 16 dice ai sensi del testo unico degli enti locali in caso di impedimento permanente o rimozione del sindaco a sino alle elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal consiglio b la giunta e il consiglio rimangono in carica anche dopo l'elezione del nuovo sindaco c la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio cosa accade in caso di impedimento permanente il sindaco ha avuto un incidente grave o rimozione del sindaco il sindaco è in galera brown guitarist dice sbagliate tutte rido per non piangere se non hai studiato niente e vuoi indovinarle tutte è insomma il nostro sistema è un sistema meritocratico piaccia o non piaccia è un sistema meritocratico se ne possono dire tante ma vi assicuro che chi studia ce la fa purtroppo ogni tanto anche chi non studia ce la fa purtroppo purtroppo per vari motivi anche la fortuna che è un brutto sistema per farcela però è improbabile che chi studia che chi studia non ce la faccia può accadere ma è raro che chi non studia ce la fa punto intanto Alessandro si butta sul latino ti manca una usimul stabunt simul cadent ma va bene lo stesso c'è un code per diritto processuale civile e penale sì non ricordo se è code 040 c'è alcuni elementi di processuale ok nel frattempo ho passato la preselettiva al consiglio regionale ah vedi vedi wrong guitarist sei debole su agenzia delle entrate ma vedo che sei forte sulla parte regionale denti locali tributario pensavo peggio vorrei un quiz solo di amministrativo eh che c'è che sono un jukebox metti qui fai là farò anche quello è che stanno partendo i concorsi in agenzia delle entrate settimana prossima per cui ho dedicato una buona fetta anche al tributario intanto vediamo che il 75% di voi dice C e la C è la risposta esatta la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio domanda numero 17 ora veloci e vi do pochissimo tempo secondo quanto indicato dal Tuel nell'ambito dei controlli sugli atti previsti dal Tuel quale delle seguenti affermazioni è vera A sono previsti sia controlli interni ed esterni B sono previsti solo controlli esterni C sono previsti solo controlli interni uff prof la fortuna conta tanto ho visto delle cose agli orali lascio a perdere non è fortuna non è fortuna intanto io vi dico una cosa a volte qualcuno mi scrive dicendo ma io ho visto che quello meritava quello meritava se siete in grado di sapere che qualcuno merita un certo voto probabilmente e non riuscite a passare i concorsi mi state montando la testa io vi assicuro vado in commissione tutte le volte ho pensiero perché ritengo di non essere all'altezza di saper valutare perché valutare una persona in pochi minuti da quello che dice non è facile e quindi non vi montate la testa quando dite che un altro meritava 26 meritava 21 meritava di andare fuori nella maggior parte dei casi poi non nascondiamoci che ci possono essere anche casi di favoritismi in cui qualcuno che non meritava effettivamente ma dubito che possiate essere in grado di farlo se ha visto cose oscene bisogna andare a denunciare perché anche questa cosa che ho visto cose oscene e sono stato zitto non si è diversi non si è migliori di quelli che le fanno le cose oscene quindi o certezze e denuncio o invece sono gossip che non me ne frega niente quindi non me lo dite nemmeno ho estratto una domanda sui controlli negli enti locali benissimo ad un concorso allora terminiamo il sondaggio in questo caso anche qui il tecnicale ci aiutava nei quiz di amministrativo il tecnicale funziona oltre il 90% dei casi questo è x più y controlli interni controlli esterni facciamone un'altra di amministrativo un'altra di amministrativo che dice quante sono le fasi previste nella gestione delle entrate 4 6 3 brava Francesca questa filosofia io non guardo nessuno non sento nessuno dovete andare così ai concorsi soprattutto all'ingresso dei concorsi dove ora per i numeri che ci sono si aspetta un'ora due ore tre ore prima di iniziare la prova si sentono mi raccontano si sentono dire di tutte ah ho saputo che il commissario ha una tresca con questo allora darà un voto il cugino del sindaco si è presentato ecc bravissimi bravissimi nei commenti mi piace dirlo mi piace vederlo significa che seguite molte molte delle dirette e allora questa che però io pensavo il 90% di voi avrebbe indovinato ha falcidiato una buona fetta vedo che attenzione attenzione arv accertamento riscossione versamento tre fasi dell'entrata quattro fasi della spesa guarda caso fanno sette ok come i sette nani ricordarseli arv ilop arv ilop arv ilop allora l'ultima vai di amministrativo l'ultima di amministrativo no no andiamo torniamo a tiputare scusatemi perché poi devo sistemare una cosa allora andiamo alla numero 19 la numero 19 che recita attraverso l'istituto del ravvedimento scusate mi ridimensiono si attua un sub procedimento in quanto tale istituto è necessariamente ricompreso in un'ampia procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto o il trasgressore può con una sanzione minima e regolarizzando la posizione nei termini di legge rimediare le inadempienze commesse oppure il contribuente regolarizza le violazioni commesse con riferimento ad attività finanziarie detenute all'estero quali ad esempio quelle relative agli obblighi di dichiarazione secondo me qui scartandone una e un pochino ragionando ci dovreste arrivare l'istituto del ravvedimento grandissimo Giuseppe ci dice a me piacciono le testimonianze onestamente io di Palermo ho passato l'orale con 30 al comune di Brescia non ci credevo neanche quando l'ho visto immagino non avesse nessuna amicizia o conoscenza o parentela a Brescia poi ci sono anche le eccezioni vediamo vediamo un po' come mi rispondete a questa attraverso l'istituto del ravvedimento allora devo dire ottimo il trasgressore può con la sanzione minima e regolarizzando la propria posizione quindi ravvedimento cosa vuol dire sono stato cattivello non ho pagato tutte le tasse le pago ok regolarizzando la propria posizione pago le tasse che non ho pagato e pago la sanzione al minimo mi ravvedo prima che mi scoprano ovviamente il presupposto del ravvedimento è che lo faccia prima che mi scoprano perché dopo che mi hanno scoperto si paga la sanzione quindi la B diciamo la si poteva intuire anche dal nome dell'istituto giuridico andiamo alla numero 20 la numero 20 che corrisponde alla 11 qui adesso mi devo spostare in alto mi dice sono soggette ad IRAP le società e gli enti a esclusi gli organi all'amministrazione dello Stato indipendentemente dall'attività svolta compresi gli organi dell'amministrazione dello Stato che eserce l'attività commerciale o compresi gli organi dell'amministrazione dello Stato indipendentemente dall'attività svolta anche su questa ci si può arrivare abbastanza bene vediamo un po' tecnicale tecnicale ovviamente ci aiuta sempre a ragionare su un paio però all'interno di quel paio devo pensare al tributo devo pensare al tributo ok non è l'IVA vi do un aiuto per farvi capire c'è un enorme specchietto per all'odola e questa si tende a sbagliarla perché dove siamo ok si tende a sbagliarla perché si pensa IRAP imposta sulle attività produttive si pensa all'attività commerciale no indipendentemente dall'attività svolta cioè o si è soggetti o non si è soggetti all'IRAP per cui l'IRAP è sull'attività intesa come soggetto non come oggetto di attività quindi anche gli organi dell'amministrazione dello Stato pagano l'IRAP indipendentemente dall'attività svolta l'IRAP è l'imposta regionale sulle attività produttive domanda numero 21 ora ne facciamo altri 3 o 4 di tributario e poi finiamo con amministrativo e poi vi chiedo quante ne avete indovinate su 30 allora la domanda è non rientrano nel novero dei soggetti passivi IRAP a gli enti pubblici e privati diversi dalla società nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale i fondi pensione di cui al decreto 124 o gli enti pubblici e privati diverse società e i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento o rettivo di risparmio residenti nel territorio dello Stato direi che anche in questo caso dovete ragionare in termini di non vi aiuto non vi aiuto qui potete usare il tecnicale alla rovescia partita la pubblicità lo so che ogni tanto YouTube che ringrazio che ci mette gratuitamente a disposizione questa piattaforma la dobbiamo pagare per questo quindi rallento un po' vi do un po' più di possibilità io aspetto sempre che rispondiate in 100 in almeno 100 no 12 minuti era un modo di dire penso appena ho scritto di ben 12 minuti era un modo di dire bravissima Mariada che vi dice a questo punto bisogna ricordare la domanda precedente a questo punto bisogna ricordare la domanda precedente e vediamo se ok terminiamo il sondaggio e sono i fondi pensione perché? perché la domanda è al negativo non rientrano poiché ho visto che gli enti pubblici e privati ci rientravano allora mi rimaneva la risposta B ok? non facilissima ve l'ho detto è un livello medio difficile quindi non vi allarmate ma andava fatto allora domanda numero 22 ai fini IVA nel volume d'affari annuo non vanno considerate a le variazioni in aumento in diminuzione verificatosi dopo le registrazioni con separata annotazione nei registri i passaggi interni di beni e servizi fra attività separate svolte dallo stesso soggetto ho le operazioni esenti io penso che qui ci siano degli specchietti per le allotole due specchietti per l'allotole questa è difficile questa la vedo veramente tosta intanto nuovamente io colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che seguono tutti quelli che mettono like tutti quelli che stanno il sabato a fare queste dirette tutti quelli che la domenica si vengono a fare dirette tutti quelli che la mattina alle 4 alle 5 quando faccio le mie dirette ci sono quelli che poi mi mandano le mail i commenti quelli che mi invitano nel bed and teach tutti quanti non si vede il testo della domanda ora dovrei averlo sistemato vediamo un po' se adesso si vede penso di sì eccola qua questa è una domanda falcidiante la domanda ve la ripeto ma io la vedo mi sembra che a video ci sia che ai fini IVA nel volume d'affari annio non vanno considerate a le variazioni in aumento o diminuzione verificatosi dopo le registrazioni con separata annotazione dei registri i passaggi interni di beni e servizi fra attività separate svolte dallo stesso soggetto o le operazioni esenti Carlo dice ci può spiegare la domanda non è che non ho capito le risposte non ho capito la domanda io sono posto fisso da qualche mese ormai continuo a seguirla grande e magari stai cercando altri posti fissi altre alternative all'attuale posto fisso cosa fondamentale benissimo allora vediamo un po' qual era la risposta esatta le operazioni esenti è uno specchietto per la lodole ovviamente sono esenti e quindi ai fini IVA rilevano sono esenti ai fini IVA e quindi vanno considerate sono i passaggi interni ok all'interno dello stesso soggetto giuridico che non rilevano ai fini IVA quindi grazie Maria Antonietta intanto per i complimenti allora andiamo alla 23 dai ce ne mancano poche velocizziamo così chi deve andare a cena va a cena con i quiz sullo stomaco facciamone un'altra di tributario che dice sono considerati acquisti intracomunitari l'introduzione del territorio dello Stato in esecuzione di una cessione di beni destinati a essere installati montati e assemblati dal fornitore o per suo conto l'introduzione del territorio dello Stato da parte e per conto di altri soggetti di beni dagli stessi in precedenza importati in un altro Stato membro la C non la considerate non la leggo nemmeno siccome le A e la B iniziano allo stesso modo tecnicale e quindi la C non la guarda e grande Sandra che dice da quando ho iniziato adesso riesco a tenere testa le domande proposte sono meno schiappa e questo piano 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 un passetto per volta e si prof dicono tutti che in regione si guadagna di più in regione si guadagna di più che nei comuni ma si guadagna nemmeno che nei ministeri e nelle agenzie ognuno guadagna sempre di meno rispetto a un altro tranne ad ADM dove si guadagna di più devo aver ridotto la finestra video l'ho fatto guardate un po' forza 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 questa non è facile ma non è neanche impossibile e comunque col tecnicale l'ho ridotta a due acquisti intracomunitari anche qui tecnicale A o B dopodiché vado a vedere le opzioni e vedo che dagli stessi in precedenza intracomunitari importati in altro stato membro e quindi diventano acquisti intracomunitari la risposta B era la giusta l'ultima di tributario e poi amministrativo fino alla fine pronti attenti via le operazioni esenti a non concorrono alla determinazione del giro d'affari dell'iva B danno diritto al recupero dell'iva assolta agli acquisti C sono soggette a fatturazione e registrazione sui libri iva intanto un utente non leggo il nome la fotografa della domenica io voglio il posto fisso per essere finalmente padrone del mio tempo e non avere gente che chiama anche quando non deve giusto in generale il posto fisso dà queste garanzie sì io sono al comune ma a ministeri non sembra uscire ancora nulla o meglio solo profili tecnici vabbè c'è l'agenzia delle entrate ci sarà l'agenzia delle dogane ci saranno alcuni ministeri sicuramente allora siamo arrivati quasi a 100 e questa metà l'hanno sbagliata metà l'hanno indovinata sono soggette a fatturazione e registrazione sui libri iva operazioni esenti comunque soggette a fatturazione e registrazione adesso andiamo sul diritto amministrativo e facciamola 25 velocissimamente adesso vi do pochi secondi perché queste sono ovviamente più facili così non chiudete sconsolati allora ma mi posso anche spostare qui in alto così non do fastidio perché tanto le vedete secondo la corretta sequenza delle fasi della spesa e fasi delle entrate nella contabilità pubblica quale delle seguenti sequenze non è corretta a ordinazione impegno pagamento liquidazione b accertamento riscossione versamento c impegno liquidazione ordinazione pagamento adesso mi sentirete fare un urlo io ve lo preannuncio ve lo preannuncio farò un urlo enorme un urlo enorme maria da vi sta suggerendo perché mi sto innervosendo perché giuseppe confessa il non la dovete smettere di buttarvi sulle risposte si legge la domanda la maggior parte delle persone non legge sto cacchio di domanda al negativo per cui ce ne sono due giuste e la a è la sbagliata ok la a è la sbagliata maremma maremma ok la a è la sbagliata ricordatevi il trucco del negativo che frega la maggior parte degli studenti il cervello non lo riesce a vedere ai sensi del 118 quale delle seguenti definizioni non è corretta con riferimento al DUP a il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica e operativa degli enti locali consente di fronteggiare in modo permanente sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative b esiste un solo documento unico di programmazione uguale per tutti i comuni c il DUP costituisce nel rispetto del principio di coordinamento e correnza dei documenti bilanci il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione vediamo un po' intanto Max dice vabbè il 75% ha indovinato ma è poco per una domanda così banale come le fasi dell'entrata e della spesa che è la domanda che è più frequente dopo l'accesso forse nei concorsi pubblici no Francesca non vi urlerò dopo il concorso mi arrabbio prima dopo amen dopo il giudizio sarà della commissione un grido come rigore sbagliato ieri ieri io non ho visto niente sto smettendo di vedere sport allora vediamo le vostre risposte questa era molto semplice quasi veramente banale perché 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 insomma che esista un solo dupe per tutti i comuni uguali magari almeno ce lo fa ce lo fa qualcun altro allora ultime domande la domanda numero 27 27 27 la domanda numero 27 ci racconta di questo con riferimento agli atti di stato civile qual è la differenza fra iscrizione e trascrizione a l'iscrizione è il processo verbale di dichiarazione resa alla presenza dei testimoni la trascrizione è la riproduzione di atti già formati B l'iscrizione è decennale la trascrizione è ventennale C l'iscrizione è atto di parte la trascrizione è atto dell'ufficiale di stato civile eh pensavate di avere una domanda semplice questa non è per niente semplice ansia alle stelle per lunedì è giustissimo avere ansia ci mancherebbe non si è essere umani se non si prova ansia da dove li ha prese queste domande? allora il 90% delle domande che utilizzo nelle prove sono studenti che me le spediscono quindi che me le mandano prese da concorsi ovviamente tutte pubbliche niente di privato tutte prese dai concorsi a cui hanno partecipato pubblicate sui siti internet ora in questo caso specifico non lo ricordo ora magari vediamo l'intestazione però non ricordo io poi le salvo con la mia denominazione insomma sono spesso recentissime a volte di poche settimane prima quindi qual è la differenza fra iscrizione e trascrizione per gli atti dello stato civile e the winner is a l'iscrizione e il processo verbale di dichiarazioni la trascrizione e la riproduzione di atti già formati anche questo un pochino ci si poteva aiutare terz'ultima domanda e poi vi chiederò quante ne avete indovinate la terz'ultima domanda è quale delle seguenti affermazioni è vera in relazione alle annotazioni sugli atti di stato civile a le annotazioni che devono essere fatti su tutti gli atti di stato sono le annotazioni di provvedimento di rettificazione b le annotazioni di provvedimento di rettificazione non devono essere registrate in nessuno dei registri di stato civile c le annotazioni sono legate all'atto e devono riportare la stessa data e la sottoscrizione dello stesso ufficiale di stato civile anche se non sapete di cosa si tratta ce ne due talmente sbagliate due talmente sbagliate quale delle seguenti affermazioni è vera allora io vi direi così a colpo d'occhio di scartare la C perché scartare la C le annotazioni sono legate all'atto e devono riportare la stessa data e la sottoscrizione dello stesso ufficiale di stato civile mettiate che voi siete nati come me nel 73 dopo di che devo fare un'annotazione sul mio atto di stato civile devono andare a richiamare in pensione o morto l'ufficiale di stato civile che ha registrato la mia nascita e fargli fare l'annotazione sul mio atto di stato civile e poi in data di ora ok la C grida vendetta poi le altre due si può pensare ma la C grida vendetta e quindi la risposta giusta è la A le annotazioni devono essere fatte su tutti gli atti di stato sono le annotazioni di provvedimento di rettificazione mentre le annotazioni non devono essere registrate cavolo invece è proprio l'opposto e quindi qui si poteva intuire penultima domanda dai vediamo un po' se anche queste di amministrativo sono arrivate un po' toste la domanda è mi sposto elettorale quale delle seguenti affermazioni è vera in relazione al servizio elettorale anzi alzo questo e mi sposto in basso a compito principale dell'ufficio elettorale è tenere aggiornate le liste elettorali mediante riscrizioni e cancellazioni periodiche che vengono effettuate ogni dieci anni in occasione del censimento B fra i compiti del servizio elettorale non rientrano gli adempimenti connessi alle elezioni come le revisioni di liste perché sono compiti dalla commissione elettorale C compito principale dell'ufficio elettorale che ritene aggiornate le liste elettorali mediante iscrizioni e cancellazioni periodiche vengono effettuate ogni anno a scadenze fisse direi tecnicale quindi vuol dire scarto la B scarto la B perché la A e la C sono uguali uno è dieci anni e uno è ogni anno azionate i neononi e direi che azionate i neuroni e direi che in Italia ma ma anche non in Italia eh non c'è dubbio che tenere aggiornate le liste elettorali ogni quanto si terranno aggiornate le liste elettorali ogni quanto si terranno aggiornate le liste elettorali ok intanto siamo arrivati a 138 like se gli ultimi che non hanno messo like lo vogliono mettere e superiamo i 150 grande boom dieci anni e ci sembrano un po' troppi anche perché in Italia si vota ormai due anni e quindi ogni anno vanno tenute aggiornate perché appena arriva la scadenza elettorale devo ovviamente prenderle quindi la C è la risposta giusta andiamo all'ultima domanda e poi vi chiedo quante ne avete indovinate intanto ringrazio a chi sta spippolando con i like l'ultima domanda la trentesima che cos'è il protocollo è un registro composto di fogli regolamentari sui quali viene registrata cronogicamente la rispondenza in arriva in partenza è un registro composto da fogli regolamentari sui quali viene registrata la rispondenza proveniente dal ministero o è un registro composto di fogli regolamentari sui quali viene registrata la posizione degli atti dei pubblici uffici questa vi ho chiuso veramente bene questa non si può sbagliare mi raccomando questa non si può sbagliare eh Mariada fa la pignola domanda un po' vintage allora bene bene dai questa però devo dire che non so ma pensavo una percentuale maggiore di risposte esatte la risposta esatta è ovviamente la corrispondenza in arriva in partenza e non la posizione degli atti dei pubblici uffici che diciamo c'è anche quella eventualmente per alcuni atti di protocollo allora adesso vi faccio il sondaggio quante quante indovinate su 30 allora rispondete al sondaggio commentiamo questo e poi ci vediamo domani per un'altra bella batteria forse di 30 eccoli qua stanno arrivando i sondaggi ringrazio tutti quanti nuovamente per la partecipazione oggi Mariada anche lei nel gruppone ma non è detto che sia un gruppone vediamo vediamo un po' perché quelle di tributario hanno falcidiato moltissimo intanto vedo che chattate fra voi assolutamente fate bene troppo poche per vincere io sono arrivato all'ottava va bene allora quasi 100 di voi hanno risposto a tutte e 30 e hanno risposto al sondaggio quindi ci aiuta moltissimo questo a capire come è prof un video sullo statuto regionale del piemonte o regolamento no ho già c'è un corso ok su tutta la normativa del piemonte quindi chi si sta preparando per diritto regionale c'è una mia lezione anzi un mini corso che trovate basta che sulla piattaforma scriviate piemonte costa anche poco diciamo che sono tre lezioni su statuto leggi e provvedimenti amministrativi della regione di tutte le regioni e vi consiglio di guardarlo per chi fa domani a che ora no non mi chiedete che ora perché io sono così come mi prende ok potrà essere subito domangiato probabilmente nel primo pomeriggio ma può essere che domani mi sveglio presto e lo lancio presto quindi non lo so allora terminiamo il sondaggio sondaggio che su circa 100 partecipanti intanto Alice dice la prima diretta mi è piaciuta ti aspetto allora ha risposto a 28-30 risposte esatte il 9% di voi non è male non è male era un livello medio difficile con un 9% che non è male da 25 a 27 il gruppone cioè quelli che se fu 27 passo se fu 26 forse 25 forse no 23-24 risposte esatte siamo sotto 22 o meno ovviamente c'è tanto da fare grazie mille noi ci vediamo alla prossima e una buona serata a domani a presto avanti tutta a